Parigi è pronta a tornare al centro del mondo. In apertura il 28 agosto è la 17esima edizione della Paralimpiade. Strade blindate per gli ultimi ritocchi, turisti sempre più numerosi, atmosfera di grande attesa. Come abbiamo seguito le Olimpiadi, anche le Paralimpiadi verranno seguite al 100%. Noi siamo veniti quindi direi la scherma per Bebevio. In arrivo nella capitale 4.400 atleti che fino all'8 settembre gareggeranno per la vittoria più importante della vita. Su ogni medaglia di Parigi è incastonato un frammento originale della Tour Eiffel ricavato dai numerosi restauri subiti dal celebre monumento, sul retro invece un timbro dei giochi in braille. Nel segno dell'inclusione per la prima volta le mascotte olimpica e paralimpica sono uguali, l'unica distinzione è una protesi ad una gamba. Con gli occhi e il cuore ancora colmi di emozioni, sono tanti gli italiani che per le strade della capitale francese aspettano l'inizio dei giochi e naturalmente tifano. L'obiettivo per il quale noi siamo venuti qui a Parigi è prima di tutto vedere la città, poi appunto c'era questa opportunità di poter vedere le Paralimpiadi e quindi abbiamo detto perché no. Forza Azzurri!